Allora, prima di parlare della partita ci tenevo e ci tenevamo a nome della società a ringraziare la società di Basket Penne per averci ospitato in questo mini-raduno, ci ha permesso di allenarci mattina e pomeriggio in questi tre giorni e finire appunto il raduno con questa amichevola. Oggi direi che abbiamo visto una partita vera, per noi la prima dove non aggeriamo il punteggio, quindi calcolo dei falli personali, devo dire che la squadra ha risposto bene. Dispiace per l'approccio che abbiamo avuto, ci abbiamo messo tempo a leggere la partita, a entrare nella partita e questo ha permesso a Chieti di creare un piccolo allungo di 6-8 punti. Abbiamo chiuso il finale in secondo quarto con un piccolo pancello che ci ha permesso di rientrare con grande energia. Terzo quarto devo dire che c'è stata grande attitudine da parte della squadra nell'accorciare il punteggio, siamo riusciti a passare sopra ed è stata una partita di contro break sia da una parte che dall'altra. Chiaramente i ragazzi hanno fatto uno sforzo importante e questo ci dà segnali positivi in campionato. Speriamo quanto prima di avere anche il nostro straniero back, speriamo appunto in settimana di riuscire a inserirlo nuovamente, però sono contento del gruppo che si stava formando e quindi dobbiamo continuare già da domani a lavorare in palestra perché il 28 settembre si inizia il campionato.